C'è il buio della notte, due anime in cerca d'amore, in giro vagando per le strade, invocando il loro nome. Passarono le ore, si trovarono i pensieri, domande senza risposte, solo sogni e desideri. Apriono i cancelli, illuminarono di un senso, l'attesa di quel tempo, e finire a me a fondo qui, si c'è un senso ad ogni passo. È il bello degli incontri, non sai quando potrebbe accadere uno sforzo tra i monti, l'armonia dal nulla è tutto che da noi si crea, passeggiare insieme e andare a casa sua, a casa sua. È il bello degli incontri, non sai quando potrebbe accadere un ricordio speciale, che non muore, non luce e resta nella tua mente. Un risparmio nel proprio ricambio di tuo sorriso, e stai in un passo dal paradiso. Uscire all'orto aperto, parlare io e te, è sempre qualcosa facile per me. Aspetto ormai da tanto, un momento emozionante, che ci aiuti a far crescere amicizie come queste. Che magnifica serata, una sorpresa inaspettata, se qualcuno me lo chiede, vuol dire che mi vuole bene. Bello degli incontri, non sai quando potrebbe accadere uno sforzo tra i monti, da armonia, da nulla e tutto che da noi si crea, passeggiare insieme e andare a casa sua, a casa sua. Bello degli incontri, non sai quando potrebbe accadere uno sforzo tra i monti, che il silenzio si rompe quando una frase risuona. Ripeto agli amici un saluto e ritorno felice, Ritorno felice Ritorno felice L'incontro è quella cosa che non saprai mai quando arriverà, dove arriverà. Può essere piacevole se incontri una persona a te cara, spiacevole se quella persona non ti sta simpatica, ma l'importante è che ogni volta porti con te un ricordo o una lezione, che può come lasciarti un sorriso, come cambiarti la vita. L'unica certezza che hai è quella che proverai un'emozione diversa ad ogni incontro. L'unica certezza che hai è un'emozione diversa ad ogni incontro. Allora. L'unica certezza che hai, lo vi facciam a te affidare. Grazie a tutti.